Fitto dice che manca ancora lo stato di emergenza. A circa 40 giorni dall'alluvione che ha duramente colpito il Gargano, neanche un euro è stato stanziato, ma soprattutto non è stato nemmeno dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, nonostante la regione abbia proceduto in tal senso, così Raffaele Fitto, aeroparlamentare di Forza Italia, sul blog raffaele-sifitto.it. Nei primi sei giorni di settembre piogge eccezionali hanno interessato il territorio della provincia di Foggia, mettendo in ginocchio l'economia e la stabilità dell'integrità socioproduttiva di questa parte della Puglia, dando vita anche ad una vera e proprio catastrofe. Ma ora, a 40 giorni dopo, non è stato nemmeno dichiarato lo stato di emergenza. Inutile cercare scuse e alibi, dice Fitto indirizzando le sue far parole verso Renzi, che agisca al più presto e che le popolazioni colpite da simili catastrofi non merito di essere trattate solo come uno spot pubblicitario. Provincia di Foggia. Oggi la proclamazione degli eletti. Si riunirà oggi a Palazzo Dogana, nel 16 e 30, l'ufficio elettorale della provincia di Foggia, preseduto da Filippo Re per la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale. L'ufficio elettorale procederà alle operazioni ed ad esse attribuite ricevute il verbale del seggio centrale elettorale. Quindi saranno i 12 consiglieri eletti che verranno proclamati. Ente Parco del Gargano. Oggi al castello di Manfredonia per la conferenza e presentazione del progetto Parco Giochi. Un ponte tra passato e presente, con lo sguardo rivolto al futuro. Anche quest'anno si annunciano grandi novità per il progetto Parco Giochi. Saperi e sapori. Un gioco da ragazzi è arrivato alla terza edizione. Il progetto educativo, fortemente voluto dal presidente Stefano Pecorella, è rivolto ai bambini e ai ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie del comune del Parco del Gargano. La presentazione del progetto si terrà oggi alle 10.30 presso il castello di Manfredonia. Interverrà il presidente del Parco, l'avvocato Pecorella, gli assessori della pubblica istruzione dei comuni del Parco, inoltre i vari dirigenti e la sovrintendenza dei beni culturali della Puglia, nella persona della dottoressa Anna Maria Tunzi. Questa mattina al castello Svevangio di Manfredonia, la presentazione ufficiale della terza edizione di Parco Giochi, il progetto ideato dal Parco fra ambiente, natura, cultura e scuola. Abbiamo intervistato il presidente Stefano Pecorella con delle importanti novità che si svilupperanno subito anche questo pomeriggio con un altro importante evento per il nostro Gargano. Il Gargano riprende, il Gargano vive e questo pomeriggio, oltre a Parco Giochi, riprenderà con un workshop sull'identità olearia del nostro Gargano. A voi là in l'intervista con il presidente del Parco nazionale, Stefano Pecorella. Presidente Pecorella, dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna a questo progetto molto importante per la nostra comunità. Sì, è un progetto che è quello di Parco Giochi 2014-2015. È il terzo anno, abbiamo increscendo, ha avuto un aumento esponenziale dei ragazzi e delle scuole che vi hanno partecipato. Ma la cosa più importante da dire è che Manfredonia diventa un punto di ritrovo, un punto di snodo di tutte le classi e di tutti gli istituti dell'area garganica, perché ritrovarci all'interno del Parco nazionale del Gargano, ma Manfredonia del Castello, che è un museo nazionale, la dice lunga sulla capacità di mettere i punti e le attenzioni su quello che è un patrimonio, che è un patrimonio di tutti e che tutti devono conoscere. Quindi anche quest'anno il progetto di educazione ambientale sarà destinato, e avrà come obiettivo quello di portare i ragazzi nel patrimonio ambientale, culturale, storico, tradizionale che noi abbiamo sul nostro territorio, ma anche quello di raccogliere la memoria, ad esempio, dei piatti tipici enogastronomici, di una memoria appunto enogastronomica che si sta andando via via perdendo, così come quella memoria o un racconto di tutte quelle infusi, erbe, decotti, quindi piante officinali, che anche se non siano raccolte all'interno di un testo, pericolosamente le potremmo perdere. E lo faremo sollecitando i ragazzi delle scuole a chiederlo ai loro nonni, ai loro genitori, quindi anche un elemento di collegamento tra il sistema scolastico, la famiglia ed il Parco nazionale. Ecco, questo è l'obiettivo principale. Io sono convinto che anche quest'anno noi avremo non soltanto numericamente una partecipazione maggiore rispetto a quella dell'anno passato, ma soprattutto un'attenzione, perché questi progetti stanno creando una cultura dell'ambiente, una cultura alla conservazione e alla tutela del nostro patrimonio. E questa è la parte più importante. Conoscenza, ambiente e cultura tramite il Parco e la scuola. Qualche anticipazione sul programma di questa terza edizione? Cominceremo subito, quindi con le scuole e il senso anche di questo incontro con i dirigenti degli istituti comprensivi di tutta l'area garganica. Cominceremo subito perché vogliamo che il progetto non sia soltanto una festa come la giornata conclusiva alle tre miti che abbiamo tenuto l'anno scorso, ma sia un processo di evoluzione lenta della conoscenza e del trasferimento del sapere all'interno del rapporto tra scuola, famiglia ed ente parco. Quindi l'obiettivo è partire subito, cominciare da subito queste progettazioni, farlo in condivisione con la scuola e alla fine avere anche la possibilità di raccogliere e documentare, quindi fare anche un documento o visivo, o audiovisivo, o anche cartaceo, o librario, per poter lasciare ai posteri quello che noi abbiamo fatto. Dopo il terribile riduvione sul Gargano, il Parco Nazionale del Gargano vive e comunque riprende il suo incessante lavoro. Questo pomeriggio ha mattinato un workshop su un'identità del nostro territorio. L'alluvione è stata tragica, devastante, non ci sono parole per spiegare o rappresentare la ferita che ha lasciato sul Gargano. Io mi auguro soltanto, e questo è un appunto rispetto a tutta l'evoluzione della vicenda, anche amministrativamente, legislativamente e burocraticamente. Non vorremmo verificare che noi siamo cittadini di serie B rispetto ad altre parti d'Italia, dove quando si verifica un evento alluvionale scendono in campo anche la Chiesa e tutti gli massimi organi dello Stato e non vorrei che il Gargano fosse dimenticato come una cenerentola. Considerando che il Gargano è abitato da cittadini italiani come tante altre parti d'Italia ed è all'interno della Regione Puglia che ha avuto la sensibilità di avviare immediatamente tutti quanti gli atti per il riconoscimento dello Stato di calamità e di emergenza, è una parte fondamentale della economia e del reddito ricettivo turistico di tutta la Regione. Quindi io chiedo a tutti quanti di avere la massima attenzione e di fare sistema, perché fare sistema è importante. Se si va in maniera sparsa sui vari tavoli non si riuscirà mai a ottenere niente ed è una delle pecche di questa terra. Quindi l'alluvione è stato un segno, quasi un richiamo all'unità di questa terra e noi cercheremo di percepirla e di affrontarla nella maniera opportuna. Questo pomeriggio quindi appuntamento con? L'olio è diventato ormai un simbolo della certificazione di qualità dei prodotti del paniere del parco. Quest'anno riapriamo ancora una volta la certificazione della filiera dell'olio, la facciamo a mattinata perché vogliamo estendere anche il territorio di influenza di questa certificazione. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Carpino, mattinata con la piana di macchia e quindi sia la parte di Manfredonia e anche di Monte Sant'Angelo è una zona importante di produzione dell'olio d'oliva, però noi abbiamo bisogno di qualificare e certificare la qualità del nostro prodotto. Altrimenti il gioco è al massacro perché si valutano soltanto le quantità e non la qualità dei prodotti. Noi vogliamo uscire da questo imbuto, da questo circolo vizioso e dire che l'olio del Gargano non soltanto è buono perché è fatto sul Gargano ma è anche certificato perché risponde a requisiti di qualità. Grazie a tutti.